buongiorno questo è un vlog oggi vlog era un po che non vloggavo perché dopo tutti quei vlog che avevo fatto quando ero in giro mi era venuta la nausea dei vlog proprio però oggi vloggo perché siccome devo portare a lavare la macchina poi tipo dovrò stargli un'ora e non so proprio che cazzo fare allora profitto per fare un vlog già dal mattino e buongiorno un vero mio gattone 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 beh dicevo che sono le 11 e mezza no stamattina mi sono svegliata alle 9 e mezza e non sono più riuscita a dormire quindi adesso mi alzo anche se è presto per me le 11 e mezza e approfitto per fare una cosa che volevo fare quello che dovevo fare che avrei dovuto fare scegliere quali vestiti buttare via perché questo è questo è il mio il mio armadio uno dei miei armadi quello con la roba estiva ed è tutto lì quindi volevo buttare devo assolutamente buttar via solo che alla fine mi sono alzata a luna quindi non ho tempo di farlo cioè ho vegetato quattro ore nel letto vi rendete conto e nulla io sto ballando al palo perché ho fatto dei video e ho fatto dei video e ho fatto dei video perché l'ho ripetuto per tre volte di seguito mi sei incantato il cervello perché tanto ormai vivo facendo video e adesso però sono le 5 quindi devo portare a lavare più in che essa devo portare a lavare perché beh a parte che ogni tanto bisogna lavarla la macchina però c'è un motivo particolare ma ve lo dico tra poco prima però mangio cazzo ancora le famose nutelle da finire quindi adesso mangio cazzo sono incazzata nera perché devo portare la macchina a lavare come dicevo prima ma l'autolavaggio chiuso perché ci sono i lavori cioè non si può proprio accedere e quindi non so come fare perché quello è l'unico autolavaggio dove lavano la macchina loro cioè loro fisicamente no e tutti gli altri sono automatici ma io figuratevi se mi metto a lavare la macchina l'avevo fatto una volta solo anni fa per fare il servizio fotografico carewash e non lo farò mai più in vita mia perché una cosa faccia difficilissimo lavare una ma poi non lo farei mai per principio cioè non esiste che mi lavo le cose da sola quindi la terrazzozza la dovevo lavare perché io tra due giorni vado a girare il video di pink essa sapete la canzone pink essa e adesso uscirà la mia canzone che è dedicata alla macchina no si chiama proprio pink essa e quindi quindi avrei voluto lavarla per fare il video con la macchina pulita però no quindi farò il video con la macchina lercia ho già ho già detto detto questo a san fabio e lui mi ha detto vabbè lasciala così al massimo la passiamo con lo straccio e quindi vabbè non è che sia sporca è più che altro i tappetini cioè i tappetini il tappetino siccome volevo fare una scena in cui schiaccio il pedale vorrei che fosse senza vabbè comunque a parte questo discorso volevo anche dirvi che ho ceduto ho ceduto e ho aperto snapchat in realtà ho aperto snapchat perché volevo vedere com'era io non approvavo snapchat e non approvo tuttora il fatto che le cose si cancellino però devo dire che è molto carino come è fatto perché dà la possibilità di vloggare a piccoli spezzoni a snap dalla possibilità di vloggare appunto sì piccoli momenti della giornata e quindi di aggiornare sempre non mi piace il fatto che tutto ciò venga cancellato non rimanga in un archivio quindi chi vuole andare a vedere non può farlo non mi piace neanche il fatto che non si possano lasciare commenti like interazione mi sembra che non ci sia interazione perché io non ho mai non ho trovato i commenti da nessuna parte non ho non so quindi mi sa che non si può commentare e allora queste cose qua mi stanno un caccio allora ho pensato che potrebbe essere un'idea ditemi se potrebbe interessarvi io lo uso tra l'altro l'ho scritto su facebook su twitter e mi sono arrivati mille mille utenti mille dico mille non so neanche quanti perché non c'è neanche la non c'è neanche scritto quanti siano però mi sono arrivate un sacco di mi è arrivata un sacco di gente che mi ha aggiunta appunto a snapchat quindi sono contenta e pensavo che potrebbe essere un'idea quella di di salvarli sul telefono e poi magari una volta ogni tanto fare un video per youtube con tutti i miei snapchat più più carini più simpatici e periodicamente fare una raccolta di snapchat da mettere su youtube in modo che rimangano magari poi fa anche ridere vedere il video tutto insieme con gli snap tutti insieme fatemi sapere se potrebbe essere un'idea se vi piace o no l'idea perché se non me ne frega niente inutile e poi volevo anche dirvi come sto usando i social in questo momento tra l'altro già è veramente faticoso c'è fatico impegnativo è faticoso nella parola adatta impegnativo avere tutti questi social a cui stare dietro c'è la vita da web star c'è fare la web sarà impegnativo perché ci sono tanti social tante cose i video su youtube però non c'è solo youtube tutti gli altri quindi è abbastanza impegnativo e volevo dirvi più o meno come li utilizzo i social che ovviamente trovate tutti trovate tutti nell'info box per darvi un'idea allora facebook è quello che a cui tengo di più diciamo no fei perché su facebook si si posta un po di tutto e ha delle funzioni migliori rispetto agli altri cioè video si possono fare lunghi quanto si vuole le dirette si possono fare poi si possono mettere foto scrivere post lunghi differenza di altri e quindi insomma facebook per me è quello principale poi instagram chiaramente su instagram posto foto tutte però tutte ecco magari su facebook non posso tutte le foto invece su instagram le posto tutte anche per esempio far solo quello quindi per vedere tutte le mie foto seguitemi su instagram poi c'è twitter che un ecco twitter twitter è territorio profano perché su twitter metto le mie foto nuda e pubblicizzo i miei video fetish allora io una volta avevo un twitter separato da questo in cui mettevo le porcate fetish no le foto così solo che poi non sono più riuscita a c'è alla fine su twitter che avevo separato non lo cagavo da anni perché due non riesco a tenerli allora ho deciso di mettere tutto sul facebook della diva del tubo e farlo diventare internazionale quindi anche attirando anche i feticisti gli utenti che mi seguono dall'estero diciamo i fan dall'estero fan nel senso di segaioli che comunque mi seguono nel fetish e ho deciso di mettere tutto insieme quindi diciamo che twitter è diventato internazionale e infatti scrivo spesso in inglese proprio perché ho tanti utenti dall'estero e pubblico foto nude quindi foto foto sexy porcate perché per una strategia semplicemente una strategia di marketing per avere più gente che mi segue che ri twitta e quindi pubblicizzare anche i miei video fetish infatti ogni tanto ne pubblicizzo qualcuno quindi twitter è diventato un porcaio però comunque se volete seguirmi anche lì potete farlo ecco cioè non c'entra più c'entra poco con youtube perché tanto poi ho visto che in italia cioè rispetto a tutti gli altri miei social in cui la gente interagisce interagisce su twitter interagisce interagite poco rispetto agli altri social perché si vede che in italia non è tanto usato c'è po meno l'abitudine e quindi l'ho reso un po internazionale e metto porcate e adesso c'è anche snapchat che voglio utilizzare nel modo che vi ho detto possibilmente anche anche facendo dei video poi archivio per youtube e snapchat il nome trovate come la diva del tubo avevo scritto su facebook alicia la diva del tubo però in realtà il nome utente è solo la diva del tubo mentre alicia la diva del tubo è il nome cioè quando riesce scrivi nome e cognome io ho scritto quello però non è il vero nome utente vero nome utente è solo la diva del tubo volevo anche far vedere come sono vestita come mi sono vestita per andare all'autolavaggio che è chiuso ho messo vabbè la felpa perché sì comunque inizia a far caldo la magliettina cute che vi ho fatto vedere ieri e poi ho messo queste scarpe non so se ve le ricordate quelle con la suola bianca tamarrissime trash tamarrissime e sono qua che è niente adesso me ne torno a casa anzi prima faccio una diretta su facebook solo io posso andare in farmacia e comprare aiuto eccomi e comprare un paio di orecchini cioè non è che sono andata per gli orecchini però sono andata devo prendere la pillola e ho visto sti orecchini mi sono piaciuti un sacco e li vendono solo in farmacia perché sono analergici ma a me mi piacevano per come sono fatti con la stellina sul rosa sulla pallina rosa allora li ho presi niente riesco a prendere puttanate pure in farmacia cioè rendetevi conto volevo anche chiedervi una cosa importantissima senza la quale non posso vivere come si fa su snapchat a fare a mettere gli effetti speciali perché ho visto dei video cioè dei mini video degli snap in cui tipo non so hanno in testa la coroncina o il musetto da orsacchiotto queste cose qua io ho cercato ho visto che si può scrivere sopra che si può scrivere col pennarello anche a mano però non ho trovato sti effetti speciali non so se magari ci vuole un'app in più o non so fatemelo sapere morirò senza saperlo cioè io mi sono messa su snapchat per quello perché volevo volevo la foto col musetto adesso sto girando video fetish quindi se vedete ogni volta che cambio adesso vi svelo una cazzata però ogni volta che cambio le lenzuola prima di mettere a lavare quelle vecchie le uso come sfondo per fare i video devo far vedere narci saluta bestiaccia lo vedete non so perché ho girato il telefono eccolo qua amore 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 io mi sono messa a fare gli snapchat sotto la doccia sono sotto la doccia in questo momento apro un po' e siamo a questo livello ho già la dipendenza da snapchat quindi ragazzi seguitemi mi state già seguendo in tantissimi che non ho ancora pubblicato questo blog perché lo sto girando mi state seguendo in tantissimi solo perché l'ho detto su instagram si vede che faccio la doccia bollente dal rossone delle mie spalle quindi ragazzi niente ormai sono addicta anch'io la mia spalla sta andando a fuoco ma guardate cazzo sta andando a fuoco sta andando a fuoco perché appunto l'acqua è bollentissima tra l'altro la mia doccia è una cosa fidissima vero? che qua cioè praticamente tramite questo coso questo è per accendere l'acqua e questo è per regolare la temperatura quindi cioè metto proprio i gradi che voglio così rimangono stabili bene io direi che questo blog finisce qua con la mia spalla ustionata che però mi fa godere perché io adoro il caldo bollente anche se mi schiono adoro ah tra l'altro non so perché mi è venuto in mente se no mi è venuta in mente questa cosa perché io sono nata in estate in piena estate l'ultimo giorno di luglio e amo il caldo amo il caldo e odio il freddo ho pensato che probabilmente io ho l'indole cioè ho l'abitudine di alzarmi tardi cioè nel senso che proprio biologicamente sono portata ad alzarmi tardissimo secondo me perché sono nata a mezzogiorno e mezzogiorno e mezza e quindi secondo me essendo nata a mezzogiorno e mezza cioè siccome io a mezzogiorno e mezza sono venuta alla luce non riesco ad alzarmi prima di quell'ora cioè sono giunta a questa conclusione fatemi sapere se secondo voi è plausibile oppure no bene sono qua stavolta ho messo le lenzuola rosse sto giro purtroppo devo cambiare spesso le lenzuola perché Narciso perde un sacco di peli ho provato a non farlo dormire nel letto a chiudere la porta della stanza ma se lo faccio si scatena un casino si scatena l'apocalisse di là cioè piange mi aggola gratta la porta caga e piscia in giro quindi lo devo tenere nel letto per forza solo che il vlog è finito perché adesso mi devo ancora struccare e poi devo mangiare cenare e poi devo mettermi a montare milioni di video quindi niente vi mando un bacio questo era un vlog casereccio un po' che non ne facevo e ci vediamo al prossimo video seguitemi sui social comunque c'è appena stato il terremoto cioè io stavo lì che cazzeggiavo al cioè stavo qua nel letto a cazzeggiare al telefono ho sentito il terremoto il terremoto mi sa che era proprio una scossa e poi ci vediamo al prossimo video